I bambini del mondo ancora protagonisti iniziano la festa del mandorle in fiore. Sì, abbiamo l'onore di far iniziare il mandorle in fiore con la diciannovesima edizione del festival i bambini del mondo. Quest'anno i gruppi saranno ben nove, quindi è l'edizione più numerosa e speriamo che i nostri gruppi possano far partire questo mandorle in fiore con il giusto verso. Formula Vingente non si cambia, quindi passeggiata per la pace, incontri con gli altri bambini, gemellaggi con i gruppi agrigentini. Sì, assolutamente sì, ci saranno i laboratori anche quest'anno al Palacongressi tra i gruppi agrigentini e i gruppi internazionali proprio per cercare di far stare insieme questi bambini e far conoscere tra di loro le diverse culture e i diversi giochi. Naturalmente l'omaggio al loro papà Claudio. Sì, quest'anno si tornerà a fare lo spettacolo al museo, quindi un incontro di gala con il premio Claudio Crescenzo.